Il federalismo invece di cui parliamo oggi, teorico e istituzionale, nasce sul terreno della problematica dello Stato moderno ed è in ogni caso il prodotto di una elaborazione tutta nuova e originale. L'americano Madison nel XVIII secolo sostiene che indubbiamente la divisione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario che si controllano a vicenda fa diminuire le possibilità di arbitrio a danno delle minoranze e dei gruppi isolati di individui. Ma il rimedio principale, il rimedio massimo, a tutela dei diritti dell'individuo consiste in altro. Consiste proprio nel federalismo. Una ripartizione dei poteri su un'asse verticale, quale appunto la ripartizione federale dei poteri, prospettata dalla nuova Costituzione americana. Da un lato, uno Stato centrale robusto, ma con poche competenze, è in grado di sorvegliare affinché le maggioranze locali non comandino ad arbitrio e senza limiti ai danni delle minoranze. Dall'altro, gli Stati membri baderanno a loro volta che lo Stato centrale non debordi dalle proprie prerogative. La distribuzione del potere, in senso verticale, tra centro e periferia, può garantire, secondo Madison, maggiori controlli e maggiore partecipazione della comunità alle scelte politiche. In Europa, il federalismo all'americana si realizza di fatto nell'Ottocento, in Svizzera e in Germania, con strutture abbastanza simili a quelle dell'Unione americana. L'unità d'Italia si fece, invece, nei termini di uno Stato rigorosamente unitario. Anche nelle fasi di costruzione dell'Italia risorgimentale erano presenti idee di federalismo, come ad esempio il movimento dei neo-welfi, tra cui spiccano i nomi di Balbo, Gioberti, Rosmini, cattolici liberali che aspiravano a unificare l'Italia senza accentramenti, nella forma di una confederazione di Stati. Ma l'unico italiano che, nell'Ottocento, può essere collocato su una linea di piena continuità con l'americano Madison è Carlo Cattaneo, fermamente liberale nella politica economica, repubblicano e federalista. Fervido sostenitore dei sistemi federali americano e svizzero, sviluppa così la convinzione che una Repubblica federale sia particolarmente adatta alla situazione storico-territoriale dell'Italia. Il pensatore mette in luce il peso avuto nella storia italiana dai comuni medievali, libere repubbliche cittadine, repubbliche guidate da un'intraprendente borghesia mercantile. In Italia le idee di democrazia e federalismo continuarono a camminare insieme nel XX secolo, con pensatori come Sturzo, Salvemini e Inaudi, per non parlare delle battaglie recenti che riguardano l'attualità. L'attenzione degli ultimi anni a un possibile modello federalista coincide con la crisi del sistema politico rappresentativo, che non sembra più assicurare un collegamento effettivo tra classe politica e società civile. Grazie. Grazie. Grazie.